Alla fine è stato sospeso il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo a Corrado Melone di Ladispoli in provincia di Roma. La decisione, in attesa degli esiti dell'indagine voluta dal Ministero dell'Istruzione, è stata presa dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio che ha contestato al dirigente scolastico Riccardo Agresti il mancato reintegro in classe del bimbo di 6 anni perché è iperattivo. Ricorrerò al giudice del lavoro, io sono certo e ho fiducia negli ispettori che faranno il loro lavoro come già stanno facendo e che porteranno alla verità, ha replicato Agresti, se c'è una denuncia penale sarà il mio avvocato a proteggermi, se invece è un procedimento scolastico e basta è evidente che qualcuno mi vuole fuori dalla scuola, afferma sottolineando che quello che sta avvenendo è un accanimento strano ed esagerato. E ancora, dice, la comunicazione era riservatissima eppure è uscita quando nessuna delle scuole aveva aperto la posta, dice il dirigente scolastico in merito alla comunicazione della sospensione. È stato evidenziato, dice, un mio reato penale, quello di non aver messo in atto la decisione del TAR, ma io ripeto, come ho già detto, non ero a conoscenza del fatto. La decisione del TAR era stata presa il pomeriggio precedente, quando la scuola era chiusa e la mattina dopo la posta è stata aperta dopo l'orario d'ingresso dei bambini, conclude il dirigente.